Ci sono 35 minuti alla fine del nostro seminario, inteso come tempo complessivo, per cui vorrei dare almeno 15 minuti di dibattito. La parola adesso a Claudio Martelli, si prepara Enrico Morbelli, intanto di Claudio Martelli non devo dire assolutamente nulla, l'unica cosa che posso ricordare è il suo libro autobiografico Ricordati di vivere, con una splendida copertina, merita già solo per quello, una foto molto intensa del 77, cioè dell'altro ieri, quindi ecco ricordiamo questo. L'altro ieri, l'altro ieri, Claudio Martelli. La metà, 35. Il resto se si votasse oggi sarebbe talmente evidente questo carattere costituzionale in conseguenza della sentenza della Corte. Ci porteremo con una legge che per una parte è stata fatta dal Parlamento e per l'altra parte sarebbe stata fatta dalla Corte Costituzionale. Non voglio neanche pensare a quello che potrebbe accadere con un siffatto sistema elettorale proporzionale senza premio, cioè in governabilità garantita, insomma a tutti gli effetti. Però una sola premessa perché discutere di leggi elettorali è fondamentale, ho appena detto, tuttavia non è l'unico fondamento della democrazia politica. In un saggio molto recente, molto accattivante, Amartya Sen ha sostenuto che l'idea dei paesi democratici dell'Occidente di essere i monopolisti della democrazia è un'idea storicamente sbagliata. Nel senso che non si è dato soltanto il caso di Atene, di Roma, dei comuni medievali, delle democrazie nate tra 8 e 900 in Europa e in altri paesi al mondo. Ci sono anche le vicende del subcontinente indiano, ma anche di altri spazi geopolitici e storici in cui si sono sperimentate forme di vita democratica. Se per democrazia si intende ciò che è giusto intendere preliminarmente prima di parlare soltanto del voto, Amartya Sen dice sì, certo voi occidentali avete scoperto il toccasana della decisione, il meccanismo del voto a maggioranza. Però questo non è l'unico tratto fondamentale delle democrazie, forse il preliminare a questo è che esista uno spazio pubblico di discussione libera. Esiste in Italia uno spazio pubblico di discussione libera? Secondo me comincia a essere un problema anche questo, perché io non credo che il campo definito dai 5 Stelle sia uno spazio pubblico di discussione libera, per esempio. Non credo che un partito che si autodefinisce monarchico e anarchico come Forza Italia sia uno spazio di discussione libera, forse lo è quello, mi permetto, così mando un messaggio a Marco che lo sveglio, lo faccio arrabbiare, mi permetto di dubitare che anche nel partito radicale ci sia effettivamente uno spazio di discussione pubblica e libera. E dunque ce ne sono molto pochi in realtà di spazio di discussione pubblica liberi in Italia e quindi uno dei requisiti fondamentali della democrazia politica in questo Paese traballa. Se a questo facessimo, aggiungessimo qualche osservazione sul sistema dei media, televisioni, una privata nelle mani di una autocarte, un'altra che è quella che fa più politica di tutte che è la 7, che non sappiamo ancora molto bene come si sia configurata dal punto di vista proprietario, e poi la RAI che rimane, che dir si voglia ancora molto influenzata dalle dinamiche politiche partitiche, quindi anche lo spazio dei media che sono diventati il grande rivale o forse il grande supplente della povertà democratica dei nostri tempi, che hanno usurpato o comunque assunto il ruolo che un tempo era per l'appunto dei partiti e della politica, quel ruolo di mediazione tra il popolo e il potere, oggi in larga misura è surrogato dai media. Che tra l'altro ha una capacità tecnica di approfondimento, ma anche di conoscere, perché quando tu disponi di centinaia di giornalisti, professionisti, è evidente che disponi di una strumentazione tecnica molto più efficace di quella dei partiti che non a caso sono posseduti dai media perché da loro dipendono per poter comunicare. La Corte ha cassato quei due punti fondamentali della legge vigente, quello che impediva al cittadino di conoscere, come è stato detto stamane, molto giustamente, e quindi di scegliere il proprio rappresentante, e poi quello di un premio di maggioranza abnorme che altra il risponso elettorale in modo abnorme. La domanda è, la proposta di Renzi e Berlusconi soddisfa le indicazioni della Corte? Io ho dei seri dubbi, mi convince l'articolo di ieri di Luciano Violante che su questo punto, sollevando le stesse questioni che io l'ho sollevato, teme o immagina che anche una legge come quella di cui si sta parlando rischia di incorrere in una sentenza di scomunica della Corte che sarebbe tenuta a farlo, tra l'altro gli stessi che hanno provocato la sentenza della Corte, quel gruppo di avvocati che sono socialisti in buona parte, ha già predisposto il ricorso e figuriamoci se la prossima sentenza non sarà coerente con quella già emessa. Quindi ho l'impressione che stiamo veramente correndo un'altra volta sull'orlo di un precipizio. Nella proposta Renzi-Berlusconi non ci sono solo i due difetti che si mantengono di quella del porcellum, eccesso di premio di maggioranza e mancanza di una libertà di scelta del rappresentante da parte dei cittadini. Secondo me c'è un rischio ben maggiore, ammesso che passi, ammesso che poi la Corte Costituzionale non la distrugga, non garantisce assolutamente la stabilità dei governi. Non vedo che cosa cambi, perché risponde ancora una volta a quella logica terrificante che si affermò negli anni 70-80 e che è un capitolo del demita pensiero, che in tutto e per tutto tendeva a sostituire la logica di coalizione alla logica bipartitica. Ed è questa che porta al risultato per cui se dopo le elezioni uno dei partiti coalizzati o perché non vuole partecipare a una missione in Afghanistan o perché ritiene che non si debba toccare lo statuto dei lavoratori, fa saltare il banco e si ricomincia da capo. Non c'è nessun limite a questa anarchia che deriva dalla logica delle coalizioni al posto della logica dei partiti. Poi c'è un'altra cosa che mi incuriosisce perché mi piace vedere cosa succederebbe, c'è questa questione dei collegi plurinominali. Renzi dice 2, 4, 6 al massimo se non ho capito male, facciamo una media del 5. Noi avremo al posto di collegi plurinominali in cui si misurano i singoli candidati, avremo dei collegi plurinominali in cui si misurano delle squadrette di 5 candidati per partito, è così no? Questo è un torneo di basket, non è una campagna elettorale che deve governare un paese di 60 milioni di abitanti, però può darsi che possa anche funzionare, io non lo posso escludere questo in principio. Avremo appunto una serie di squadrette di basket che collegio per collegio si misurano. Qui subito si apre la parentesi sulle primarie, insieme ai precedenti che sono stati gentilmente ricordati fino agli anni 80 e inizio anni 90, fumo Marco e io a proporre per primi sia l'idea di un partito democratico che per noi era proprio, come dire, premessa e conseguenza politica di una legge elettorale che doveva essere presidenziale, federale e maggioritaria, il carattere uninominale dei collegi deriva la sua necessità e la sua importanza proprio non soltanto perché lega l'eletto, più che al territorio, ai cittadini, no? No, il territorio mi ha sfinito dalla legge che ci ha fatto una campagna, una campagna tanto... Sì, è chiaro che noi vogliamo un cittadino, noi vogliamo un cittadino, questo è perfettamente... Sì, no, perché se sta cosa la terra, il sangue... No, no, noi vogliamo l'essere umano, l'individuo. Benissimo, perfetto. Quindi, secondo me corrisponde a un'altra esigenza fondamentale, il sistema uninominale. Diciamo le cose come stanno, insomma poi la politica, i suoi fondamenti, la politica democratica, ha gli stessi problemi grossomodo che aveva nell'antichità classica, che sono rivisti in epoca moderna e che continuano anche adesso. Cioè, il principio della direzione o del comando che noi mettiamo in capo a un Presidente eletto dal popolo, che in America è visibile a un monarca elettivo, esige un contrappeso nel potere democratico che è dato da una aristocrazia politica eletta dal popolo. E' questo lo scopo. Cioè, avere dei piccoli collegi in cui si misura un candidato per partito, e tendenzialmente poi due, poi possono arrivare in forme graduali, però sono tendenzialmente un confronto a due o a tre al massimo, risponde proprio a questa esigenza, che al potere più forte che noi vogliamo assegnare all'esecutivo, deve corrispondere una più forte rappresentanza. E questo dovrebbe essere fatto risaltare, come si fa a qualificare la rappresentanza politico-parlamentare, cioè al più alto livello di rappresentanza politica, senza ancorarla a un confronto circoscritto in uno spazio territoriale tra il meglio di coloro che possono scendere in campo, il meglio perché coloro che sono in grado di catturare il consenso, di promuoverlo e di catturarlo, e non di derivarlo da un leader nazionale o di derivarlo da un partito, devono essere i singoli individui a misurarsi in campo aperto, in uno spazio pubblico determinato. Mi chiedo sotto il profilo, noi non siamo qui a fare tattica, l'unico rappresentante veramente per essere benedetto qua, Noi altri ci accontentiamo di discutere dei fondamenti e credo che è questo che dobbiamo rilanciare la proposta che avete giustamente segnalato come il perno di tutto, un sistema maggioritario uninominale motivato con tutte le ragioni che via via siamo tutti venuti aggiungendo, non entriamo quindi nel merito delle correzioni da portare alla proposta di Renzi e di Berlusconi perché non credo che ci competa, saranno ottimi i messaggeri Benedetto e Giacchetti. Ne approfitto per dire che non riesco a immaginare neanche cosa potrebbe succedere nel caso in cui si va dalla riforma elettorale per non si è fatta quella costituzionale, che ne succede del Senato? Come verrebbe eletto il Senato in quel caso? E' una legge che prevede uguale. Uguale a che? Uguale alla Camera, tagliandoci. E' scritto nella legge questo? Cioè che quel meccanismo varrebbe anche per il Senato? Va bene, questa domanda è stata… Ecco, invece l'idea del Senato consultivo, francamente, cioè di avere un altro CNEL, non capisco bene che razza di disegno sia, questo serve semplicemente a dire non abbiamo il coraggio di proporre l'abolizione, eppure semplice, ecco, quando questo non va bene dobbiamo essere semplici come scritto nel documento in premesso, il CNEL. Sembra un ottimo suggerimento dell'amico Morbelli? Ma secondo me no, perché non funziona il CNEL, non capisco che dovrebbe funzionare il Senato trasformato in CNEL, non serve assolutamente… Nella erede del Senato del Regno? Delle corporazioni, la Camera delle corporazioni. Il Presidente Plena è la quarta carica istituzione dello Stato. Ho capito, ma si sta facendo modifiche costituzionali, questa mi sembra forse quella che incontrerà anche minor resistenza. Non so quanto costa il CNEL, però certamente un po' costa, e quindi è una spesa che si potrebbe risparmiare, è anche quella di un Senato consultivo. Io però sono contrario a questa idea. Prezzi ha motivato questa scelta di abolire il Senato con tre ragioni. La prima è le spese. Questo è un argomento che non sta nel cielo e nel terra, perché se tu dimezzassi il numero dei parlamentari della Camera e del Senato, ne risparmieresti di più che con la sua proposta. Essendo i deputati 630, se dividi per due, ne risparmi 315 di stipendi di parlamentari, se dimezzi anche il Senato, ne risparmi a 330, cioè ne risparmi molti di più di quanti ne risparmiresti con la sua proposta. Secondo me il Senato dovrebbe essere specializzato, del resto l'idea giusta, con altre funzioni. Probabilmente toglie la fiducia per evitare il bicameralismo, nel senso che si ripete l'interdi approvazione delle leggi uguale a quello della Camera. Ma perché non pensarlo come una Camera alta che si occupa di politica istituzionale, di controllo di tutte le pubbliche amministrazioni, che è uno dei compiti che il Parlamento ha come compito fondamentale assegnato dalla Costituzione e che non esercita mai o quasi mai. Sono sempre più ridotte le commissioni di inchiesta e al di là delle commissioni di inchiesta, secondo me manca proprio un controllo repubblicano dei comportamenti dello Stato, che è un'esigenza vitale di una democrazia. Potrebbe occuparsi di politica istituzionale, di controllo di pubblica amministrazione e anche di politica istituzionale, lasciando interamente la materia di bilancio. Guarda qui, tanto siamo ormai nella follia totale, perché gli ultimi due governi, compreso quello preseduto da Mario Monti, noi abbiamo unificato in capo al Ministro dell'Economia le competenze del bilancio, del tesoro e delle finanze. Sono scompasse le funzioni, però rimangono le competenze. Nessuno si occupa più di fiscalità, se non di tanto in tanto per ridoccare sempre al rialzo le tasse. Nessuno si occupa di tagliare la spesa. Tutto è ridotto il bilancio. Che era il più lebo dei tre ministeri, ai tempi nostri perlomeno. Che era la programmazione economica, che non viene fatta. Tutto il tesoro in realtà, usando... Oh, usando tutto... Ma il tesoro non fa quello che dovrebbe fare, cioè non controlla la spesa. Tant'è che poi si deve rivolgere a un commissario esterno. Ora a me questo pare veramente un delirio. Cioè abbiamo il Ministro dell'Economia, che è il Ministro del Tesoro, che ha per compito costituzionale di occuparsi di controllare la spesa. esiste la figura del ragioniere generale dello Stato che deve controllare i conti giorno per giorno. Perché dobbiamo chiamare un commissario esterno? Non riesco a capirlo. Perché? E nessuno in Parlamento solleva questa questione. Ho scritto molto su questa faccenda del commissario, la spending review. Benissimo. Un minuto. Ho finito. La cosa più urgente, che affido a Benedetto come messaggero, in realtà sarebbe di riformare quella che è la scadenza elettorale imminente, cioè le europee, che è l'unico luogo in cui le preferenze sono proprio un danno enorme che viene fatto al Paese. Lì occorrerebbero liste bloccate per garantire l'elezione di persone competenti che garantiscono che a Bruxelles e a Strasburgo ci staranno l'intera settimana, compreso il weekend, come fanno i deputati europei, tedeschi, inglesi e francesi, spagnoli, che si trasferiscono in Europa per 5 anni e non che hanno il problema di tornare a casa per controllare il collegio o per difendersi delle politiche successive. Questa sarebbe la cosa più urgente, se riuscissimo come cantiere a esercitare un minimo di moral suasion alla ragionevolezza, all'elementare buonsenso, lì dove ci sono vanno abolite. Io non sono per restaurarle a livello parlamentare, perché sono, e bisogna essere coerenti su questo, profondamente convinto della necessità di una riforma uninominale maggioritaria. Grazie. 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 Grazie.